Ciao a tutti, abbandono, come superare la paura con la tecnica di desensibilizzazione. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre il mio seminario online sul canale Felicità Benessere, quindi che sarà martedì 31 marzo dalle 20.30 alle 23, devi abbonarti al canale Massimo Terramasco sull'abbonamento Seminari Online. E ora veniamo al tema dell'abbandono, come superare la paura dell'abbandono. In un percorso di crescita personale è uno dei punti fondamentali da riuscire a superare, perché se non si supera la paura dell'abbandono si resterà sempre vincolati a situazioni che non ci piacciono. Chi teme l'abbandono resta impelagato in situazioni che gli danno più sofferenza che piacere, resta in relazioni proprio per paura di essere abbandonato e quindi della solitudine, perché la paura dell'abbandono di fatto è la realtà, in realtà è la paura della solitudine, che poi affonda radici ancora più profonde nella paura della morte fondamentalmente, no? La nostra vita è fatta e costellata di abbandoni. Da quando nasciamo abbandoniamo un ambiente, che è l'ambiente, diciamo, intrauterino, e nell'ambiente intrauterino noi vivevamo grazie al cordone umbilicale, che ci dava più o meno tutto quello che era necessario, insomma. Venire al mondo vuol dire cambiare completamente habitat, e questo è un abbandono. Ogni volta che noi cambiamo qualcosa, in realtà viviamo un abbandono. Finiamo un ciclo scolastico, viviamo un abbandono. Usciamo da bambini piccoli, usciamo per la prima volta, andiamo all'asilo. Molti bambini lo vivono come, diciamo, un trauma, no? Perché percepiscono l'abbandono da parte della famiglia. Ecco che quindi questo costantemente si manifesta nella nostra vita. Veniamo lasciati da qualcuno, percepiamo un abbandono, muore una persona cara, percepiamo un abbandono. Quindi l'abbandono è una delle cose che fa più paura, fondamentalmente. Ma qual è il concetto? Quindi la nostra sfera emozionale, la nostra sfera emotiva, per la quale matrimonio e funerale sono la stessa cosa, per la quale ricerca costantemente la tensione emozionale, perché la parte emotiva va costantemente alla ricerca della tensione emozionale, impara, diciamo così, che l'abbandono è una fonte di approvvigionamento di emozioni. L'abbandono ci dà emozioni. Ci dà emozioni per quel motivo, perché rende, diciamo così, il tutto emotivamente significativo. Ogni volta che una persona ci manifesta, manifesta la capacità di poterci abbandonare, anziché noi emotivamente sganciarci, ci agganciamo. Quindi noi ci agganciamo. Chi ha vissuto l'abbandono, chi ha l'abbandono come imprinting significativo, tende ad agganciarsi sistematicamente a persone che glielo fanno vivere. Andando a soffrire però, perché il problema di tutto questo è la sofferenza. Se noi non avessimo questa sofferenza della sfera logico-razionale, l'abbandono sarebbe positivo. Uno direbbe, che bello, ieri mi ha abbandonato Carla. Che bello, mi sono vissuto un'emozione fantastica. Ah, sto proprio bene oggi, ma proprio abbandonato di brutto. Che bella emozione. Cioè, se fosse così sarebbe sempre un'emozione, ma se la nostra parte logica la vivesse in positivo, intanto imparare questo è fondamentale. Di sensibilizzarsi è proprio, non dico arrivare a godere anche logicamente del fatto che una persona ci abbandoni, ma non averne paura, diciamo così. E per fare questo è importante, è importante iniziare a desensibilizzarsi con l'abbandono. Per desensibilizzarsi con l'abbandono dobbiamo somministrarcelo noi. Perché qual è la differenza? Che noi facciamo di tutto per, normalmente, per evitare l'abbandono. No, accettiamo anche l'inaccettabile talvolta per non essere abbandonati. Accettiamo davvero l'inaccettabile. Restiamo in situazioni che non ci piacciono, facciamo delle cose che non ci va di fare. Tutto per questo cavolo di paura di essere abbandonati, questo temere la solitudine. Invece dobbiamo imparare a somministrarci. A somministrarci proprio questo tipo di tensione. A somministrarci proprio questo tipo di emozione. Perché se così facciamo, ce ne liberiamo, ci desensibilizziamo. E quindi, che fare? Beh, intanto iniziare a... Per fare questo serve un atto di coraggio. La differenza qual è? Che dobbiamo essere noi che facciamo la scelta di vivere l'abbandono. Questo è la cosa fondamentale. Anziché subirla, andiamo a scegliercela. Andiamo a sceglierci di vivere l'abbandono. Quindi, mi dici, ma se lui mi ha abbandonato? Beh, un modo per sceglierti di vivere l'abbandono è scegli di non cercarlo, ad esempio. Lui ti ha abbandonato, tu scegli consapevolmente di non cercarlo più. E di viverti quell'emozione. Di che la parte emotiva ti dedico a questo abbandono perché non andrò a cercarlo, non gli farò neanche una telefonata, non gli farò neanche una chiamata. Goditi questa emozione. E vedrai che la parte emotiva, dopo un po', beh, quell'emozione dell'abbandono... Beh, sì, l'interessa, ma capisce che non c'è più, come dire, perché quando è che l'emozione è forte? Quando la parte logica si oppone. E invece se la parte logica non si oppone, ma va a cercarsela. Addirittura, quando stai in una relazione dove senti la paura di essere abbandonata o di essere abbandonato, mettiti tu in condizioni, non dico di abbandonare, ma mettiti tu in condizioni di stare lontano un po' da quella persona, allontanarti deliberatamente. Avessi voglia di vederla, te ne stai in solitudine. Ma lo fai per desensibilizzarti all'abbandono. Ecco, questa tecnica, se riesci a metterlo in atto, ti darà dei grandi benefici e ti permetterà di eliminare piano piano la paura dell'abbandono. Fondamentale, se lo subisci, come essere abbandonato, per autosomministrartelo, devi evitare di cercarlo, dedicando, dicendo a te stesso, guarda, o a te stessa, adesso non lo cerco, perché voglio deliberatamente somministrarmi sta pure dell'abbandonata. Non lo cerco manco morto. Ecco, questo è una cosa che da un imprinting, va a rivoluzionare l'imprinting in modo positivo, in modo tale che piano piano la tua parte emotiva non avrà più l'esigenza di farti coinvolgere proprio con le persone che ti abbandonano. Bene, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo l'appuntamento col mio seminario online martedì 31 marzo dalle 20.30 alle 23, abbonandoti al canale Felicità Benessere alla sezione abbonamenti seminario online, sezione seminario online. Inoltre anche sul mio altro canale Massimo Taramasco è previsto un programma di abbonamenti, da un abbonamento base a un abbonamento top, a un abbonamento Master Consulting che prevede anche una consulenza telefonica. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!